segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te intanto il negoziato deve cominciare nel senso che di questo 20 per cento ci può essere una trattativa il tema la cosa che mi pare che stia emergendo è che putin ha bisogno di una vede uscita anche perché ha alle spalle ormai dei falchi che sarà sono forse più propensi di lui a un escalation questo è il tema a questo punto cioè il matto in questo momento c'è qualcuno più matto di lui se volgarizzando no al cremlino in questo momento o no beh quando si vogliono buttare giù dei dittatori spesso quello che si trova dietro ancora peggio di quello che si è buttato giù basta vedere cosa è successo in iraq in libia e via discorrendo e adesso si stanno sbranando hanno cominciato a sbranarsi no il vice capo del cherson quello dell'amministrazione cherson ha addirittura detto a shoigo questo ministro della difesa di uomo molto vicino a putin ha fatto le vacanze adesso insieme in siberia gli ha detto guarda dopo quello che fatto sarebbe meglio che tutti spararsi cioè che non è esattamente un complimento no ma le critiche sono piovute sui generali come quando si perdono le guerre tra l'altro i generali come sempre sono vanno ci vanno di mezzo però vorrei prendere un'osservazione avete notato che in questi giorni si è abbassata la questione taiwan ma se n'è alzata quella classica quella di kim jong-un cioè della corea caspita sul 38esimo parallelo c'è una tensione fortissima cosa significa questo significa che tra le elezioni di mezzo termine americane e il congresso del pc cinese e kim potrebbe anche decidere di fare il suo test nucleare l'ultimo che ha fatto era nel 2017 se non puoi tirare una bomba in ucraina fai un test nucleare in corea del nord ieri al consiglio di sicurezza dell'onu russia e china hanno votato contro la risoluzione americana di altre sanzioni a pion jiang per esempio allora in attesa di senso